Germania ed educazione sessuale per migranti. Vengo informato da un caro amico, un caro amico, Massimo Baldo, Max Kuhn, Massimo Baldo, che in Germania è stato aperto un website per educare gli uomini non bianchi, non bianchi, c'è scritto così, non bianchi, ai rapporti sessuali con le donne bianche, le donne ariane, indoeuropee, le donne germaniche, le donne nordiche. Dunque è una bella iniziativa e c'è il sospetto che questa iniziativa sia stata presa dopo i fatti di Colonia, ma sulla base di alcuni miei video, cari amici, perché io avevo detto che l'accoglienza dei migranti non si poteva risolvere soltanto nel dare il pane ai migranti, si doveva dare pure il sesso perché gli istinti fondamentali di noi esseri umani sono due, non è uno solo, il pane accontenta, soddisfa l'istinto di sopravvivenza, però c'è anche l'istinto della perpetuazione, ci vuole il sesso, il sesso ci vuole, non basta fare un'accoglienza a metà. Allora la Germania si vede che mi ha ascoltato, si vede che questi miei video su questa mia web tv magari vengono tradotti per il mondo germanico e quindi i germani hanno capito che è inutile fare i finti tonti, gli diciamo ti diamo il pane, no, no, gli istinti sono due, c'è un istinto che ci porta a mangiare e c'è un istinto che ci porta a fare l'amore anche considerando che questi migranti sono tutti bei giovanottoni, bei giovanottoni. Allora c'è questo sito, c'è l'articolo di giornale che ve lo metto nel riassunto di questo video e ci sono i disegni, c'è la grafica dei disegni, c'è l'uomo nero, sì sì proprio nero, nero con una donna bianca, uomo nero con donna bianca e sì, sì, è interessante, ci sono tante cose, ci sono tante cose su questo website aperto dal governo tedesco per i migranti specialmente quelli non bianchi, infatti gli omini rappresentati nella grafica sono colorati di nero, capito? Però si dicono tante tante cose, si dice che non è permessa qua da noi la clitoridectomia, il delitto d'onore non è consentito qua da noi mi dice, però non si parla della clitoride, la musica è sempre la stessa. Cioè in questo sito, in questo website germanico, che è non solo per la Germania, mi pare che sia pure per la Danimarca, per il Belgio, per l'Olanda, ed è rivolto ai migranti, bei giovani ottoni, non bianchi, c'è scritto non bianchi, infatti io l'omino, l'omino che si accoppia con la donna bianca è un omino nero, si deve dire che le donne hanno la clitoride, la musica è sempre la stessa, non c'è nessun cenno alla clitoride, cioè è come se questo website germanico avesse fatto di nuovo una intellettuale, ideologica clitoridectomia, glielo si deve dire all'uomo nero, che le donne hanno la clitoride, e che le donne non hanno bisogno di una mazza enorme, capito? Una mazza da baseball, non hanno bisogno di questo le donne, le donne hanno la clitoride, è lì che vanno toccate, non hanno bisogno le donne di cose mostruose, capito? Questo è un cattivo condizionamento della mazza di baseball, capito? La mazza di baseball, no, 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 assolutamente no, si doveva parlare della clitoride, ma per fortuna che c'è questa mia web tv, questa mia pubblica gratuita web tv, che continua a parlare della clitoride, per cui ad Angela Merkel e al governo tedesco non si deve dire che si rivolga, si rivolga a questa mia web tv on demand, capito? Questa mia pubblica e gratuita web tv dove c'è qualsiasi spiegazione sulla clitoride, sull'orgasmo clitorideo e su quello vaginale, l'orgasmo vaginale è una cosa piccola piccola, invece l'orgasmo clitorideo è una cosa grandiosa, ok? Mi raccomando, io spero che qualcuno di voi possa prendere questo video, infiocottarlo per bene e inviarlo al governo tedesco, poi loro sono capaci di farci la traduzione, tra l'altro questa mia opera, che ora sta in tutto il mondo nella sua bella versione in lingua inglese e la possono leggere pure in Germania, capito? Ok, ecco, quindi il primo passo l'ho fatto, dopo i fatti di colonia, io ho fatto un video dicendo che ai migranti non gli si può dare solo il pane, gli si deve dare pure un po' di sesso, cioè non si può far finta, non si può far finta di niente, pensare che i migranti, i maschi, i maschi hanno bisogno solo del pane, hanno bisogno anche del sesso, d'accordo? Cioè l'accoglienza deve essere integrale, adesso si sono orientati in questa direzione quelli del governo germanico, però nelle istruzioni manca qualsiasi riferimento alla clitoride, fu l'austriaco, l'ebreo austriaco Sigmund Freud, parlava la lingua tedesca Sigmund Freud, a buttare tutto sull'orgasmo vaginale, no, no, no. Poi la sessuologia successiva, soprattutto la sessuologia della bella sessuologa americana Shea Haidt, ha detto che le donne hanno un meraviglioso orgasmo clitorideo, che non richiede nessun bastone di baseball, capito? Va bene, va bene, caro Massimo Baldo, aspettiamo il secondo round da germanico sulla clitoride. A tutti cari amici, tanti cari saluti da Serafino Massoni.